Affidamento dei lavori a fine 2023, poi tempi di lavorazione fissati in 3 o 4 anni a seconda del tipo di cantierizzazione adottata, con una stima dei lavori per circa 180 milioni di euro. Sono i passaggi salienti del progetto di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, presentato in Regione dal commissario straordinario Corrado Gisonni. Il progetto è propedeutico alla definizione del progetto definitivo. L'obiettivo dei lavori sarà superare l'emergenza del sistema idrico del Gran Sasso, rendendo indipendenti le infrastrutture presenti. I punti salienti sono ovviamente quelli di puntare a risolvere l'emergenza del sistema idrico del Gran Sasso, fondamentalmente compartimentando le infrastrutture attualmente esistenti, rendendole assolutamente indipendenti l'una dall'altra, quindi l'autostrada, dal sistema acquedottistico, dai laboratori. Per quanto riguarda le tempistiche, oggi daremo qualche informazione che è stata già anticipata in cabina di coordinamento al Presidente Marsilio. I tempi sono dettati un poco da quella che è la inevitabile durata imposta dall'iter amministrativo, che dovrebbero vedere l'affidamento dei lavori a fine 2023, mentre i lavori hanno una durata variabile fra tre o quattro anni a seconda delle ipotesi di cantierizzazione che verranno adottate. Il Gran Sasso, infatti, è un sistema complesso che raccoglie realtà che possono sembrare inconciliabili. La messa in sicurezza coinvolge anche impianti esterni al traforo, apparentemente indipendente rispetto alle infrastrutture ospitate all'interno delle gallerie. Nel corso della presentazione però è emersa anche la problematica economica, nel senso che le risorse a disposizione sono stanziati circa 120 milioni, non bastano, e già lo ha dimostrato il quadro economico preliminare. Quello che è il quadro economico preliminare che è stato redatto dimostra che le risorse non sono sufficienti, d'altronde già nella DGR 33 del 2019 venivano presentati interventi che erano quantificati una somma superiore ai 120 milioni attualmente stanziati, quindi un incremento di circa il 50% rispetto alle risorse attualmente disponibili.